Allora intanto buon pomeriggio, benvenuti a tutti, vi chiedo appunto di accomodarvi, ben ritrovati per quelli che ci hanno già seguito questa mattina. Quello che stiamo per affrontare adesso è un tema molto molto caldo, niente più sprechi, solo preziose risorse, magari fosse così. Io mi sono segnata solo due dati che adesso faranno accapponare la pelle, ma adesso ve li dico. Mi presento solo brevissimamente, io sono Chiara Albicocco, sono una giornalista scientifica, mi occupo prettamente appunto di scienza e tecnologia e da una decina d'anni ho questo pallino della scienza applicata al settore dell'agricoltura dell'alimentazione e ho condotto anche una trasmissione su Radio 24, la Radio 24 Ore, che si chiama appunto Food Lab, proprio su questi temi e l'ultima mia fatica è una trasmissione su Amazon Audible, proprio su questi temi, che si chiama Food Revolution. Vi presento anche i miei relatori, qui alla mia sinistra c'è Giovanni Perotto, vado solo in ordine così di apparizione, ma non me ne vogliate, ricercatore del gruppo Smart Materials di IT, IT è l'Istituto italiano di tecnologia, magari adesso Giovanni ce lo racconterà, dove fanno un sacco di cose, tra cui le bioplastiche ottenute dagli scarti vegetali. Quando parliamo di scarti vegetali veramente sono tutti gli scarti vegetali, loro hanno fatto un bellissimo studio sugli scarti da carciofo che non vede l'ora di raccontarci. Katia Carbone qui alla mia destra del CREA, il CREA è l'istituto, diciamo il consiglio delle ricerche nazionali che si occupa di studi e ricerca appunto nel settore dell'agricoltura, è il principale ente di ricerca italiano e in particolare Katia lavora per il centro di ricerca di olivocoltura, frutticoltura e agrumicoltura, dimmi se sbaglio. Con Katia vedremo un po' di raccontare invece un'applicazione veramente particolare di quelli che sono gli scarti della produzione della birra. Intanto quali sono gli scarti di produzione della birra e come si possono impiegare. Ci sono diverse modalità e in particolare loro ne hanno studiata una da cui tirano fuori il pellet, quindi sarà divertente ascoltare. E infine sentiamo Lorenzo Maggioni che è responsabile della ricerca e sviluppo del consorzio italiano Biogas e qui invece ovviamente lui ci racconterà che cos'è il biogas, ma forse a Mantua più che in altre città dovrebbero conoscerlo perché tantissime, ad esempio aziende agricole utilizzano il biogas per produrre energia elettrica e termica, quindi racconteremo un pochino questa esperienza applicata all'agricoltura, ma soprattutto ci racconterà di un progetto particolare, Sardo di Arborea, in cui vorrebbero utilizzare il biogas trasformato in biocarburante, poi ovviamente magari se sto banalizzando troppo, Lorenzo tu mi correggerai, dagli scarti, dalle deiezioni degli allevamenti soprattutto di vacche da latte e li utilizzano per far andare i mezzi per poi consegnare il latte. Insomma un circolo virtuoso, un'economia circolare di cui si è tanto parlato qui al festival che appunto sentiremo dalle parole di Lorenzo Maggioni. Direi di entrare subito nel merito di questo, io volevo, vi ho promesso di darvi questi due dati veramente allucinanti che ho trovato sul sito del Ministero della Salute che riporta che lo spreco alimentare sul nostro pianeta costa ogni anno mille miliardi di dollari, che questa cifra va aumentata di 1600 miliardi di dollari, quindi 2600, se si calcola anche le perdite d'acqua e la CO2 emessa in atmosfera e viene calcolato che ogni anno vengono sprecati 1,3 miliardi di tonnellate pari a un terzo della produzione. Ecco direi che questo è un dato davvero sconcertante perché sappiamo che appunto intanto non tutti hanno accesso alle stesse risorse per cui già bisognerebbe stare attenti in quel senso. E per di più sprechiamo cibo buono perché insomma lo sappiamo tutti che abbiamo dei cicli di vita, dei prodotti che potrebbero essere ottimizzati e migliorati. Per cui quanto è importante capire come si possono riutilizzare gli scarti e farli diventare davvero come dicevamo preziose risorse, cioè non devono essere più scarti, non devono essere più scartati. Giusto? Ok. Allora passo la parola a Giovanni Perotto che ci parla proprio di questo. Buongiorno a tutti, il mio nome è Giovanni Perotto, non ho ancora fatto niente per meritami l'applauso. Bravissimi, incoraggiamento. Grazie mille per l'invito a venire qua a parlare. Lavoro all'istituto dell'anno di tecnologia a Genova, l'istituto ha diverse sedi in Italia, quello dove lavoro io in principale è a Genova e nel gruppo di Smart Materials, dove l'idea del gruppo e l'expertise del gruppo è quella di cercare di fare il design delle proprietà della materia, giocare con la materia, come dire, un crocevia di chimica, fisica, ingegneria e decidere come comportare la materia. In particolare materiali naturali, materiali di tipo cellulose e altre cose che vedremo oggi. In particolare una delle cose che cerchiamo di fare è utilizzare materiali naturali per cercare di sostituire la plastica. Il motivo della plastica, del perché la plastica ha avuto un grandissimo successo, è perché è un materiale bellissimo, fa un sacco di cose. Pensate solamente a tutte le cose di plastica che abbiamo incontrato da questa mattina. Il problema della plastica è che è un materiale eterno. Tutta la plastica che abbiamo prodotto dal primo giorno in cui cominciamo a produrre la plastica è grossomodo qui. Pochissima viene riciclata perché costa troppo e moltissima viene dispersa nell'ambiente da cui grossi problemi di plastica che effettivamente vediamo nei nostri mari. In particolare perché si accumulano in queste grossissime isole di plastica e queste isole di plastica oltre ad espandersi aumentano di numero. Questa isola di plastica è stata fotografata di fronte alla costa dell'Honduras nell'anno scorso e fino all'anno scorso nessuno sapeva che anche lì si sarebbero formate isole di plastica. Quindi stiamo continuando a inquinare il nostro pianeta. Il motivo per cui questa cosa succede è che se uno guarda il ciclo della plastica com'è rispetto a un ciclo naturale, si accorde che il ciclo naturale c'è il sole che da energia alle piante producono le risorse e quello che sono i rifiuti, alberi, frutta marcia, tutte queste cose qua, vengono efficacemente rintrodotti al 100% all'interno del ciclo. Nella plastica questo non succede, si passa dal petrolio, si produce la plastica vergine, si producono gli oggetti di plastica e questi oggetti di plastica vengono tendenzialmente buttati via. Mentre il materiale di cui è fatta la plastica è eterno, durerebbe 2000-3000 anni a seconda del materiale che usiamo. Questo l'ho preso da un bellissimo report che ha fatto la LM Carter Foundation dove fa vedere cosa succede alla plastica e fa vedere che più o meno il 40% viene smaltita, il 30% viene dispersa nell'ambiente di tutta la plastica che produciamo e solo il 14% viene effettivamente raccolta per poter essere riciclata. Quindi una marea di plastica la stiamo buttando veramente nel nostro ambiente con i problemi che ne derivano. Uno dei problemi è esattamente questo, continuando ad aumentare la quantità di plastica che finisce nel mare. Se decidiamo di continuare così, non fare niente per imitare il problema, nel 2050 lo scenario è che noi avremo la stessa massa di plastica nel mare uguale alla massa di pesce che sta nel mare. Quindi c'è un sacco di ricerca dietro a questa cosa per cercare di risolvere questo problema, un po' alla radice, quindi cercare di mettere dei materiali che non siano così eterni, che sono le plastiche biodegradabili, oppure a monte, quindi cercare di prendere dei materiali che arrivino da risorse rinnovabili, quindi di non usare il petrolio. Quello che facciamo noi è cercare di fare entrambe le cose, prendere materiali da fonti rinnovabili che siano a loro volta riciclabili, che siano a loro volta biodegradabili, prendendo ispirazione da quello che fa la natura, quindi usando materiali tendenzialmente vegetali. E quindi quello che vogliamo fare è integrare il ciclo vegetale con il ciclo della plastica, quindi prendere lo scarto della produzione di cibo, farlo diventare bioplastica, farci gli oggetti di bioplastica, poi una volta che abbiamo finito di fare questi oggetti, questi oggetti verranno efficacemente reintegrati nell'ambiente. E quindi questi che vi faccio vedere sono una collezione di, vado molto rapidamente, una collezione di brevetti che abbiamo fatto di diverse tecnologie per produrre bioplastiche. Da questi che sono, partendo dagli scarti, la pella della carota, piuttosto che il gambo del sedano e prezzemolo, fare film che sono al 100% vegetali, si comportano come le plastiche ma sono al 100% vegetali, oppure fare delle gommine, delle formine che possono essere trasformate in forme diverse. Lì vedete una lista non esaustiva di tutti gli scarti vegetali che stiamo provando a utilizzare. Oppure fare 3D printing, quindi avere il mio scarto vegetale in una forma di filo che può essere infilato in una stampante 3D e da lì io ci posso fare qualsiasi oggetto io voglia. Questo ad esempio è con lo scarto di cacao. Oppure un altro approccio è cercare di utilizzare, mimare e sintetizzarsi in laboratorio qualcosa che abbia la stessa composizione chimica, la stessa funzione della buccia del pomodoro per cercare di sostituire parte del packaging con qualcosa che funziona ed è fatto come la buccia del pomodoro. Partendo da tutte queste tecnologie abbiamo fatto un processo di, ok noi siamo bravi in laboratorio, viviamo dentro un laboratorio, ma c'è un mondo là fuori, cerchiamo di fare qualcosa con il mondo là fuori e questo è stato... Scusa Giovanni ti interrompo solo un attimo per chiederti una puntualizzazione che forse prima di andare avanti è necessaria. Quando tu parli di bioplastiche magari se ci dai solo una definizione, cioè hanno le stesse caratteristiche e offrono le stesse prestazioni di una plastica normale, ovvero sono resistenti... Sì, dalle diverse tecnologie che abbiamo sviluppato rispondono a diverse cose, alcune sono gommose, alcune sono più fragili, ma sono più dure. A seconda dello scarto che utilizzi hanno prestazioni diverse? A seconda del processo che utilizziamo, lo scarto cerchiamo di essere quanto meno specifici sullo scarto in modo da avere dei processi che siano utilizzabili con tutti gli scarti che ci capitano a tiro e un processo mi produrrà le gomme, un processo mi produrrà i film, un processo mi produrrà il filo per la stampa 3D e decido io cosa fare a secondo dell'applicazione che poi voglio. Quindi diciamo che hanno delle prestazioni analoghe alla plastica tradizionalmente intesa, ok. Quindi questo è l'esempio del carciofo che diceva Chiara a inizio. A novembre dell'anno scorsa abbiamo cominciato a lavorare con il mercato ortofrutticolo di Genova che per fortuna nostra sta a poche centinaia di metri dal mio laboratorio. In quel momento andavano di stagione i carciofi quindi siamo andati nella loro isola dei rifiuti e cosa c'era? C'era un sacco di gambi di carciofo, foglie di carciofo, scarto del mercato. Quindi abbiamo detto riusciamo a prendere questi scarti e trasformarlo nel packaging, trasformarlo nella plastica che viene utilizzata nel mercato. In questo modo abbiamo risolto due problemi contemporaneamente. Riduciamo l'utilizzo di plastica all'interno del mercato, riduciamo il loro problema di smaltimento del rifiuto del mercato e una volta che la bioplastica che abbiamo prodotto noi viene utilizzata e ha finito la sua vita è comunque vegetale, quindi si può comunque compostare, si può comunque smaltire e non durerà per 3.000 anni. E quindi questo è quello che abbiamo fatto. Siamo andati al mercato, per uno scienziato la mattina prestissimo, 6 di mattina, 6 di mattina. Questo è quello che c'era, questa è la loro isola di rifiuti e adesso vedrete il bravo ricercatore che invece che lasciare che smaltiscano il rifiuto in questo modo, se lo va a prendere... Ma c'erano anche tanti pomodori, eh? C'erano anche di pomodori marci. Marci. Se va a prendere lo scarto, se lo porti in laboratorio, produce questo che per noi il nostro punto di partenza è polvere di vegetali e dei vari rifiuti. Qua vedete il pomodoro, quello in mezzo è il nostro amico carciofo, quest'ultimo penso fosse radicchio. E questi sono i diversi processi che facciamo. Da fare estrusione, quindi fare quel filo che vedete prima per la stampante 3D, che è questo, ma che può essere utilizzato anche per fare i pellet, che sono per chi fa qualsiasi cosa con la plastica, sono il loro punto di partenza. Chi fa prodotti di plastica compra i pellet e li forma con questa macchina che vedete qua, questa è una versione piccola del laboratorio, si chiama stampante e iniezione, e fa queste bellissime scatoline che adesso spuntano fuori dalla macchina, che sono fatte di carciofo. Oppure altri versi che adesso vedete, termoformatura con una stampante a caldo, rivedrete un altro processo fatto tutto completamente in acqua per produrre film di bioplastica. In questo caso abbiamo filmato la carota, ma vale per qualsiasi altra cosa. E l'idea è appunto poi creare dei prototipi che siano utili per il mercato. Quindi avremmo creato quelli che per il mercato sono gli alveoli, quel foglio di plastica con le formine che ci sono dentro le cassette dove la gente appoggia la frutta e la verdura, frutta in particolare, e cercare di farlo con un materiale che è vegetale, che stava nella loro isola di rifiuti fino a prima. Questo che vedete è una piccola collezione. Questo è un esempio di alveolo, questo è un altro esempio di alveolo che abbiamo fatto. Poi già che ci eravamo abbiamo provato a fare tutte le altre bioplastiche che facciamo. e questo vedete è una collezione di cose. E adesso che siamo usciti dal laboratorio abbiamo testato questa cosa sul campo, dove ci sono le persone, dove le cose funzionano, stiamo cercando di fare un altro passo avanti e cercare di portare questa cosa verso l'industrializzazione e eventualmente la commercializzazione. Ringrazio tutte le persone del laboratorio che hanno lavorato con me su questo e prendiamoci cura della nostra terra che ce n'abbiamo una. Senti Giovanni, una cosa volevo chiederti. Quando parli di bioplastiche, così come si parla tantissimo adesso dei sacchetti ad esempio biodegradabili del supermercato, sono sinonimi di biodegradabile al 100% o no? Perché questo è un aspetto molto importante. Una volta che poi dismettiamo ad esempio quelle scatoline che voi avete costruito, dove vanno? Cioè diventano a loro volta rifiuto o tornano indietro? C'è un po' di confusione dal punto di vista di come si chiamano le bioplastiche. C'è gente che vende come bioplastica quello che è polietilene, che però deriva dalla canna di mais. E il polietilene è polietilene, non è biodegradabile. Tutto quello che facciamo noi è a base di vegetali. Quindi è biodegradabile come vegetale. Abbiamo fatto tutti i test di fine vita e a seconda del processo che utilizziamo, quindi della forma finale della bioplastica, abbiamo dei materiali che si decompongono da poche settimane a un anno. Quindi l'idea è avere un array di materiali che sono utilizzati e vengono utilizzati per l'applicazione dove non serve avere una cosa eterna, ma ha bisogno che quella cosa a un certo punto finisca. Ecco, tu dici giustamente sono degradabili da qualche settimana a un anno. Ovviamente non ci aspettiamo però di buttarli come fosse una buccia di banana nel prato aspettando che si degradino. Cioè, devono avere un ciclo ovviamente virtuoso e magari tornare ad essere riutilizzati. Possono essere riutilizzati, possono essere anche semplicemente compostati, possono essere smaltiti nel nostro rifiuto organico. Queste sono le vie di smaltimento delle nostre bioplastiche. Che è un po' diverso appunto anche dai sacchetti, questi famosi sacchetti del supermercato che non sono biodegradabili, o meglio sono biodegradabili a 60 gradi, ma come sappiamo le nostre temperature non arrivano a 60 gradi, per cui se lo lasciate in giro non si biodegrada, per cui inquina esattamente come un sacchetto di plastica. Questo deve essere abbastanza chiaro, io non smetterò mai di dirlo. Aveva una domanda signora, dica. C'è un microfono e il microfono verde, eccolo. Quindi forse, come diceva, io in casa, per esempio lo scolapasta o alcuni aggeggi che si usano come le elettrodomestici, eccetera, non riesco ancora a vederlo utilizzato? Per quelle cose probabilmente no, per tutti gli oggetti usa e getta, per tutto il packaging, il packaging ha tempi di vita medio che sono dai pochi giorni ai pochi mesi. E per fare questi oggetti utilizziamo materiali che hanno durato di vita di 5.000 anni. E' qui che noi pensiamo di avere un vantaggio, avere un materiale fatto per durare tre mesi, per un'applicazione che richiede che il materiale duri tre mesi. Tra l'altro gli strumenti di cui parla la signora, ad esempio le parti in plastica, i giocattoli, gli scolapasta, non sono considerati imballi, e quindi non vengono differenziati nella plastica, ma vengono smaltiti o in discarica o nei rifiuti indifferenziati. Questo ovviamente porta un'inefficienza totale di questo meccanismo. E' un problema quasi solo italiano, perché in Europa si stanno organizzando su questo. Quindi vabbè, ci stiamo lavorando però. Va bene, allora diamo il microfono a Katia Carbone, del CREA, appunto l'abbiamo introdotto. Katia ha fatto uno studio, anche lei fa ricerca giustamente, e ci racconta un pochino in che modo è possibile riutilizzare questa volta scarti di produzione, perché appunto è un pochino differente, non sono gli scarti, diciamo, domestici, o gli scarti, ad esempio, dell'ortomercato, ma qui è di un'attività produttiva specifica, che appunto siamo curiosi di sentire in che modo produce, in che modo scarta e in che modo riutilizza. Buon pomeriggio a tutti. Prima di iniziare con il mio intervento, faccio un ringraziamento doveroso all'organizzazione che mi ha invitato qui oggi a parlare delle tematiche di cui ci occupiamo nell'ambito dell'economia circolare. Mi chiamo Katia Carbone, lavoro come ricercatore presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, dove nella sede OFA di Roma sono responsabile del laboratorio di chimica e biotecnologie alimentari. Il mio gruppo di ricerca da anni si occupa di qualità e sostenibilità delle produzioni agroalimentari, facendo proprio quelli che sono i principi ispiratori di questo nuovo modello di economia circolare che è stato adottato dalla comunità europea e che richiede che non si intervenga più semplicemente nel recuperare e riutilizzare uno scarto, ma piuttosto si ponga l'attenzione nel ridisegno completo, nel ridisegnare completamente il concetto di produzione e trasformazione in modo tale che ogni step della filiera risulti completamente sostenibile sia dal punto di vista ambientale quanto da quello economico. Infatti per quanto riguarda i dati italiani, ma se cambiamo le cifre, sono adattabili a tutte le nazioni, la stima delle perdite in campo nell'industria e nella distribuzione del nostro paese sono quelle riportate nella slide. Di contro però abbiamo una indagine previsionale fatta dalla comunità europea che definisce quelli che possono essere i margini di guadagno per chi intende investire in ricerca e innovazione nel campo della bioeconomia. Dati questi che sottolineano quanto questo nuovo modello produttivo non sia solo necessario, ma sia addirittura conveniente da adottare, soprattutto per quei comparti come l'agricoltura, l'agroalimentare e l'agroindustriale dove la biomassa organica residuale, come la chiamiamo noi, che altro non è che lo scarto generato, in realtà ha un potere di valorizzazione intrinseco altissimo. Quindi l'idea è semplicemente quella di estrarre o produrre da questi scarti sostanze e composti che possono andare a sostituire quelli di derivazione fossile, di derivazione petrolchimica. Questa è l'idea che è alla base del nostro progetto Birra Verde, che è un progetto che è stato finanziato dalla Rete Rurale Nazionale e che ha come obiettivo quello di migliorare la competitività dei birrifici artigianali andando a ridisegnare l'intera filiera brassicola, secondo un modello di economia circolare che parte dalla considerazione che la produzione di birra è uno dei processi, non in ambito angroalimentare, in ambito qualsivoglia, assolutamente più inefficienti nell'utilizzo delle risorse biologiche perché pensate che si stima che più del 90% della materia prima entrante diventa scarto di produzione. Per farvi capire un po' meglio quello che intendo, ho riportato qui un diagramma di flussi di scarti prodotti solo per quanto riguarda la trasformazione della materia prima in birra, considerando un birrificio artigianale che ha una produzione mediana di 15.000 ettolitri di birra. Come potete vedere dalla slide, si generano vari flussi di scarto con caratteristiche chimico-fisico-differenti pressoché in ogni punto della produzione. Quindi abbiamo le trebbie, che altro non è che malto esausto, l'uppolo esausto, lievito esausto e quelle che noi chiamiamo acque di processo. Cioè quando si fa un processo agroindustriale, normalmente si usano grandi quantitativi di acqua per lavare le macchine, per lavare gli ambienti, eccetera. Tenete presente che per ogni litro di birra prodotto mediamente vengono utilizzati dai 3 ai 4 litri di acqua di processo che ad oggi vengono universalmente in tutti i birrifici italiani fatte defluire direttamente in fogna perché questo permette la normativa. Mentre per quanto riguarda gli altri due effluenti più importanti che sono appunto le trebbie e il lievito, questi sono catalogati come rifiuti speciali. Quindi sono un onere a carico del produttore. Quindi il progetto Birra Verde fondamentalmente quello che fa è mettere in evidenza come se noi invece di puntualizzare la nostra attenzione sulla gestione degli scarti del processo produttivo strettamente detto quindi la formazione della produzione di birra lo andiamo a innestare considerando tutta la filiera quindi dal campo alla bottiglia e quindi andiamo a valutare tutti i punti di criticità lungo la filiera che producono scarti non solo quelli dell'impianto produttivo. Applicando processi innovativi e tecnologie sostenibili è possibile non solo progettare ma anche realizzare dei modelli produttivi che siano assolutamente sostenibili ma soprattutto replicabili nei diversi territori in connessione con quello che è il concetto di filiera integrata ciclo produttivo chiuso che permette da un lato di diversificare le attività agricole quindi dare una diversificazione di reddito alle nostre aziende tenete conto che in Italia le aziende sono molto piccole o medio piccole non abbiamo in media aziende molto grandi e sia quello di tutelare al contempo la biodiversità locale quindi quello che il progetto vuole far passare come messaggio è che è necessario introdurre un nuovo paradigma produttivo nel nostro sistema agricolo che parta dal considerare un utilizzo sostenibile delle risorse biologiche che accanto alla produzione primaria si prenda cura anche di poter ottenere nuove sostanze e energia da tutta la filiera compresa quella relativa agli scarti non abbiamo semplicemente pensato e ideato questo modello ma abbiamo anche realizzato in laboratorio soluzioni per il recupero di tutti gli scarti prodotti lungo la filiera in particolare oggi vi riporto quelli relativi al recupero delle trebbie perché in questo caso abbiamo fatto uno scaling up di processo quindi per alcune delle soluzioni individuate per il recupero di trebbie abbiamo lavorato su impianto pilota perché vi dico alcune delle soluzioni trovate perché quando noi facciamo queste analisi facciamo in realtà un'analisi gestionale del sistema produttivo e del territorio che significa se noi andiamo a fare un'analisi delle dimensioni medie dei birrifici artigianali andiamo dai birrifici come quello che vi ho detto prima che produce 15.000 ettolitri anno fino al micro birrificio che produce 1.000 litri anno quindi capite che la sostenibilità economica di queste aziende nell'accettare e introiettare le nostre soluzioni tecnologiche è completamente differente e quindi abbiamo trovato soluzioni che potessero andare bene per birrifici differenti cominciando dal trasformare le trebbie in farine che possono essere addizionate agli integratori mangimistici oppure per la formazione di prodotti alimentari in questo caso abbiamo realizzato uno snack salato che contiene il 10% di farina di trebbia lo abbiamo sottoposto a un consumer test durante una delle giornate dell'isola della sostenibilità a Roma e abbiamo avuto in effetti un buon riscontro da parte dei consumatori altra tipologia di soluzione è quella di recuperare sostanze funzionali dalle trebbie le trebbie contengono elevate quantità di vitamine elevate quantità di fibre come ad esempio i beta glucani eccetera e la parte restante della biomassa trasformarla sempre in pellet o farine funzionali poi ci siamo dedicati alla formulazione di pellet da trebbie con due usi specifici uno per la mangimistica quindi ad uso zootecnico e l'altro a uso energetico questo perché? perché abbiamo visto che in molti dei birrifici dove andavamo le cotte venivano gestite tramite una caldaia a biomassa in altri birrifici invece abbiamo visto che utilizzavano il GPL come fonte energetica per il funzionamento del loro impianto proprio in virtù di quello che abbiamo visto quindi abbiamo deciso di fare un passo ulteriore cercando di sposare in pieno la filosofia sull'economia circolare della comunità europea che ci chiede non solo di recuperare e riciclare ma che il processo che noi applichiamo per recuperare e riciclare non generi a sua volta ulteriori scarti un cosiddetto zero waste approach in questo caso abbiamo trasformato le trebbie mediante pirolisi in biochar il biochar è un ammendante che viene utilizzato per migliorare la tessitura dei suoli quindi migliorare la resa produttiva anche perché tende a trattenere acqua e fertilizzanti e rilasciarli nel tempo quindi il suo utilizzo permette di utilizzare meno acqua e meno fertilizzanti inoltre è una delle strategie per la mitigazione dei cambiamenti climatici perché è un sequestrante di CO2 unico sottoprodotto di questo processo in questo caso noi il biochar poi l'abbiamo utilizzato per coltivare il luppolo quindi in questo senso gestione integrata della filiera unico sottoprodotto di questo processo è il Syngas il Syngas è un gas che ha lo stesso potere calorifico del GPL e quindi può essere utilizzato nelle aziende dove usano il GPL al posto di GPL in tutti quei processi che hanno necessità di poter usufruire di calore come ad esempio l'essiccazione e quindi rientra nella gestione della filiera perché le trebbie per essere trasformate in biochar o in pellet devono essere essiccate abbiamo fatto anche un'analisi economica in questo caso sulla sostenibilità economica dell'adozione da parte di un birrificio artigianale di un impianto di pellettazione per pellet da caldaia a biomassa abbiamo ipotizzato un piccolo impianto da 30 kilowatt e tre diversi livelli di sfruttamento da 800 a 2400 ore e anno ovviamente in questo caso la materia prima in ingresso è la trebbia abbiamo quindi fatto un'analisi differenziale fra quelli che sono i prezzi medi di mercato del pellet di due qualità differenti a 1 e a 2 tanto al dettaglio quanto all'ingrosso e l'abbiamo valutato rispetto a quello che è il costo unitario quindi euro per tonnellate della produzione secondo il nostro impianto e come vedete abbiamo comunque in questo caso abbiamo riportato rispetto a pellet di qualità a 2 un margine di guadagno che va da 25 euro fino a circa 98 euro a secondo del livello di sfruttamento dell'impianto da 800 a 2400 ore e anno e ovviamente al tipo di mercato a cui indirizzato mercato all'ingrosso o mercato al dettaglio questo proprio per far vedere che oltre all'auto approvvigionamento può garantire una diversificazione del reddito aziendale laddove l'azienda poi vada a vendere sacchetti di pellet per combustione con questo ho finito permettetemi solo una piccola citazione perché ne siamo particolarmente orgogliosi questo progetto è stato scelto per essere rappresentato a Bruxelles lo scorso febbraio all'ultima conferenza sugli stati generali sull'economia circolare come best practice ne siamo molto orgogliosi perché eravamo gli unici italiani presenti beh che dire applauso grazie mille Katia perché ci hai descritto con un esempio concreto quando abbiamo pianificato questo panel appunto abbiamo cercato di dare di ricercare esempi molto concreti che potessero spiegare l'economia circolare in pratica e quindi diciamo che questo appunto questa ricerca che tu ci hai evidenziato e ci hai raccontato mette insieme proprio tutti gli elementi e ci fa capire che appunto un micro birrificio o un birrificio come adesso davvero ce ne sono tanti abbiamo visto i dati del 2013 ma sicuramente in questo periodo c'è una diffusione ampia dei birrifici in Italia quanto potevano non essere come dire sostenibili anche dal punto di vista ovviamente economico ci saranno i business plan però ovviamente anche dal punto di vista appunto della sostenibilità ambientale io faccio riferimento a questo e invece in questo modo loro riescono a utilizzare praticamente tutto e anzi ci guadagnano perché in quel modo che ci hai illustrato addirittura non si devono più neanche comprare il combustibile o il pellet per far andare le stufe insomma quindi davvero davvero complimenti Katia allora andiamo un po' rapidi poi magari se ci sono non volevo togliere altro tempo a Lorenzo Maggioni perché se ci sono domande tenetele che poi magari le facciamo tutte alla fine Lorenzo Maggioni è responsabile ricerca e sviluppo del Consorzio Italiano Biogas qua un pochino ci siamo avvicinati ti diamo la palla per raccontarci innanzitutto vabbè sul biogas credo che si parli tanto in questo periodo di biogas magari ci fai una brevissima introduzione e poi in che modo viene applicato all'agricoltura e in particolare alle aziende agricole che fanno allevamento come il caso che avete ad Arborea avremo bisogno qualche ora per trattare tutto in maniera esattiva ma invece faremo tutto in 12 minuti assolutamente allora parto anche io con un ringraziamento a Chiara agli organizzatori e a tutte le persone che stanno lavorando a questo bellissimo evento e a voi che siete qua che avete scelto di dedicare una parte del vostro sabato alla coltivazione della conoscenza che è il sottotitolo del festival quindi veramente molto interessante io vi parlerò di biogas ho preparato un breve video un brevissimo che in maniera molto semplice affronta il problema cioè riassume in poche parole che cos'è il biogas e che cos'è soprattutto il biometano ovviamente dal nostro punto di vista noi siamo un consorzio che oggi raggruppa circa 700 imprese agricole che producono biogas e circa 150 società che collaborano con il nostro settore fornendo la tecnologia fornendo i servizi necessari per il corretto funzionamento degli impianti prima di far partire il video ricordo che biogas non è una novità degli ultimi anni ci sono circa 20.000 impianti di biogas produttivi in tutta Europa se andiamo a vedere a livello mondiale ovviamente i numeri sono ben più impressionanti è una tecnologia che nasce addirittura alla fine alla fine del 1800 cioè banalmente si vuole far fermentare in maniera controllata tutto ciò che può fermentare quindi le bioplastiche andrebbero benissimo le trebbie di birra le usiamo le usiamo anche nei nostri impianti mettiamo tutto ciò che fermenta in un grosso ovviamente distinguendo i substrati agricoli dai rifiuti dagli scarti delle nostre tutto ciò che fermenta è la materia organica sì sì assolutamente lo mettiamo in un bel contenitore è chiuso è ermetico non ne mette puzze ovviamente se condotto correttamente lo teniamo mescolato lo scaldiamo ed ecco che si produce un gas che tecnicamente si chiama biogas lo vediamo nel video che adesso parte e poi vi spiego due cose sul progetto uno dei tanti progetti che stiamo portando avanti si fa un gran parlare di biogas che inquina che puzza che danneggia il territorio ogni volta che viene proposto o progettato un nuovo impianto si formano comitati di cittadini non biogas ma siamo sicuri che il biogas sia davvero dannoso se con il letame di un allevamento invece di accumularlo in attesa di poterlo usare come concime ci produciamo energia termica non facciamo puzza non inquiniamo ci riscaldiamo scuole ed ospedali e ci beneficiano tutti se con le bucce e gli scarti della frutta o della verdura invece di buttarli via ci produciamo energia elettrica per centinaia di famiglie ci beneficiano tutti se con il raccolto danneggiato invece di distruggerlo produciamo biometano evitiamo di importare biocarburanti dai paesi tropicali non aumentiamo il traffico merci verso le grandi centrali e rendiamo i nostri mezzi ancora più ecologici risparmiando e ci beneficiano tutti se invece di lasciare i campi incolti incrementiamo le rotazioni culturali e con il secondo raccolto produciamo digestato rendiamo più fertili i campi più efficienti le aziende che si liberano dai concimi chimici e miglioriamo la qualità del cibo che portiamo a tavola e ci beneficiano tutti se l'impianto è ben costruito proporzionato alle dimensioni dell'azienda agricola e gestito in modo corretto non si generano puzze non si crea traffico di mezzi pesanti che portano biomasse da lontano e si sfruttano al meglio i sottoprodotti dell'azienda e ci beneficiano tutti e se facciamo del biogas un'eccellenza sempre più italiana continuiamo a creare posti di lavoro e ci beneficiano tutti un impianto di biogas non è un mostro che brucia rifiuti ma una grande risorsa per l'ambiente e il territorio in grado di rendere le aziende più efficienti e competitive di ridurre la nostra cronica dipendenza energetica dall'estero e di produrre in una volta sola energia elettrica energia termica un ottimo fertilizzante naturale e biometano il biocarburante più ecologico al mondo quindi se il biogas è fatto bene ci beneficiano tutti ottimo allora ovviamente lo slogan ripetuto più volte richiama il nostro acronimo Consorzio Italiano Biogas CIB ci beneficiano tutti bene abbiamo parlato di biogas biogas oggi in Italia viene usato quasi esclusivamente per produrre energia elettrica la sfida di oggi perché è stato pubblicato un decreto che ci permette finalmente di partire su questa strada e di non produrre più energia elettrica ma di iniziare a produrre un biocarburante che si chiama tecnicamente biometano la legge definisce biometano quel gas che ha le stesse caratteristiche del nostro gas naturale quello che usiamo per scaldare per riscaldare per cucinare o quello che usiamo nelle auto a metano ovviamente se è a nostra disposizione quindi lo stesso identico gas con le stesse caratteristiche di utilizzo ma ovviamente di origine rinnovabile per arrivare a produrre biomassa biogas e biometano ci sono varie tecnologie ma non è il momento chiaramente di raccontarle perché il biometano questo è un grafico che non abbiamo elaborato noi è uno studio condotto da un ente prestigioso tedesco che è l'agenzia per l'energia tedesca hanno confrontato le emissioni di gas climalteranti prodotte da auto alimentati dai più comuni carburanti e cos'è emerso che oggi se andassimo a produrre quando inizieremo a produrre biometano come avverrà nel nostro paese per usarlo come carburante andremo a emettere in atmosfera le stesse quantità di CO2 di un'auto elettrica a condizione però che l'auto elettrica sia alimentata con l'energia prodotta da un parco eolico oggi si parla molto delle auto elettriche che saranno le auto del futuro ricordiamoci che l'energia elettrica dovrà essere prodotta in maniera più pulita oggi in Italia ci sono ancora operative 10 centrali a carbone produciamo ancora tantissima energia elettrica col carbone fino a quando produrremo energia elettrica in quel modo l'energia elettrica seppur usata nelle auto elettriche toglierà l'inquinamento puntuale nelle città ma continuerà a creare inquinamento in altri luoghi del nostro bellissimo paese la produzione di biometano nel modo che vi ho mostrato permette di ridurre enormemente queste emissioni andando assolutamente a pareggiare quelle di un auto di un auto a metano l'altro aspetto di fondamentale importanza è che il metano il biometano può essere usato negli stessi impianti di distribuzione che ci sono già in Italia ne abbiamo più di 1.100 oggi in Italia circolano più di un milione di auto a metano le auto a metano possono usare biometano senza nessuna modifica questo è uno studio condotto su scala reale da una ditta che ha completamente cambiato il proprio parco mezzi pesante non sta più usando un litro di diesel nei camion come quelli che vedete in basso a sinistra inizia a usare chiedo scusa metano sotto forma non gassosa ma sotto forma liquida noi il biometano lo potremmo produrre ugualmente bellissimo lo potremmo produrre o sotto o sotto forma gassosa o sotto forma liquida il gas verrà usato per le auto leggere per le nostre autovetture il metano liquido invece è un carburante molto più adatto per i camion non sto a farvi a vedere i conti economici vi dico semplicemente per assumere che usando il biometano o il gas naturale un camion risparmia circa 25.000 euro all'anno che poi possono tradursi in minori prezzi per il trasporto e in minore incidenza per noi consumatori finali perché tenderanno si spera a non aumentare il prezzo dei beni al consumo vedete quanto sta aumentando il petrolio in questi giorni qua usando biometano o gas naturale il prezzo del trasporto delle merci non aumenta minimamente la cosa più interessante sono i numeri che vedete evidenzati in verde quanto inquinamento si risparmia usando in questo caso del gas naturale liquido un domani appena inizieremo a produrlo un biometano sotto forma gassoso liquefatta meno 15% della CO2 perché è gas naturale di origine fossile se fosse biometano la riduzione di CO2 sarebbe intorno al 90% gli NOx che è un altro gas inquinante meno 70% le polveri sottili meno 99% una cosa incredibile per di più questi mezzi sono molto meno rumorosi rispetto i motori a metano sono meno rumorosi dei motori diesel questo semplicemente per dire che se noi siamo un po' in ritardo in Italia in Europa ci sono già circa 500 impianti biometano che producono più di un miliardo di metri cubi all'anno di prodotto e quando dici appunto in Europa sono messi meglio ma in Italia siamo messi che in Italia siamo messi bene con i biogas siamo il secondo produttore a livello europeo ma produciamo soprattutto energia elettrica ora stiamo iniziando a produrre del biometano adesso stiamo iniziando dicevo quello che fa da anni la Svezia lo potremmo fare anche noi la Svezia cosa fa? fermenta tutto ciò che può essere fermentato perché in Svezia non arriva il gas naturale loro hanno una rete di trasporto solamente sulla costa occidentale nelle principali città il gas non ce l'hanno allora non arriva cosa fanno? se lo producono da solo facendo fermentare gli scarti delle cucine gli scarti dell'agricoltura gli scarti agroindustriali producendo del biogas che viene trasformato in biometano e viene usato in questi modi viene usato negli autobus nelle principali città svedesi si vantano di usare biogas evidenzato in rosso c'è una scritta che tradotta significa grazie al biogas miglioro l'ambiente si usa addirittura nei treni nelle tratte non elettrificate i treni vengono alimentati a biometano ed è tanto virtuoso questo ciclo che è stato premiato dal WWF nel portale dedicato agli esempi virtuosi tesi a migliorare l'ambiente quello è il sito Climate Solver dove appunto vengono evidenziate le pratiche migliori che servono a ridurre le emissioni climalteranti quindi i processi di produzione ci sono la tecnologia è matura addirittura li utilizzano in maniera diffusa adesso vediamo l'esempio stiamo iniziando soprattutto con questi numeri noi prevediamo di arrivare entro pochi anni a una produzione di almeno mezzo miliardo di metri cubi che porterà nelle nostre previsioni ma non sono solamente nostre perché in fondo in basso vedete tutta una serie di marchettini che sono gli enti più che hanno un interesse nello sviluppo dell'industria del gas in Italia e nell'industria automobilistica che fa uso di gas tutti noi prevediamo che negli anni a venire verrà aumentato il numero di mezzi a metano circolanti nelle nostre città e nelle nostre strade con grossissimi benefici ambientali si stima almeno mezzo miliardo di metri cubi all'anno facciamo un caso concreto oggi c'è in funzione un grosso impianto in provincia di Bergamo che viene alimentato con gli scarti delle nostre cucine si producono addirittura 3.750 metri cubi di biometano all'ora vengono immessi in rete e poi vengono venduti nelle stazioni di servizio al posto del metano gassoso che importiamo dalla Russia o dalla Tunisia un esempio concreto agricolo quello che ho appena fatto è industriale mi avvio velocemente alla fine perché ci sono solamente due slide il progetto della cooperativa 3A è una grossa cooperativa agricola in Sardegna in provincia di Oristano la cooperativa ha 62 anni di storia sarebbe bello raccontarvela tutta ma non ho tempo quello che c'è che è interessante è che questi allevatori allevano vacche da latte hanno 50.000 vacche da latte in 240 aziende producono ovviamente un mare di latte ma producono anche un mare di cacca di liquame e di letame quindi qual è l'alzata di ingegno da parte di questa cooperativa che già oggi utilizza del gas liquefatto ricordo che in Sardegna non hanno la rete del gas unica regione in Italia dove non c'è gas naturale loro comprano il gas liquido che arriva dalla Spagna a Via Nave e alimentano il proprio caseificio in maniera più pulita ora cosa faranno useranno il liquame degli animali il liquame verrà fermentato produrranno del biogas il biogas viene trasformato prima in biometano gassoso e poi in biometano liquido col biometano liquido alimenteranno i mezzi trasporteranno sia il latte verso il caseificio sia i formaggi dal caseificio fino ai supermercati fino ai punti vendita facendo così andranno a ridurre enormemente gli impatti che questi mezzi hanno sul territorio questo è banalmente il disegno il layout della stazione di servizio che è in fase di realizzazione dell'impianto di produzione del biometano spero di essere stato dentro nei tempi sei stato bravissimo abbiamo un minuto fate un applauso va bene bravissimo volevo soltanto dire una cosa appunto il caso che è appena raccontato ad Arborea hai dato qualche numero ci dà idea di quali sono le dimensioni di quella cooperativa oddio non credo che qui a Mantova con Grana Padano e Parmigiano Reggiano siano messi diversamente quindi diciamo che è un progetto pilota perché ovviamente bisogna capire se il processo è efficiente bisogna fare una serie di come dire valutazioni tecniche però caspita una cosa così potrebbe veramente essere diffusa su tutta la pianura padana e anche oltre grazie a quel decreto che è stato pubblicato a marzo di quest'anno decreto 2 marzo 2018 noi ci attendiamo veramente una grossa spinta ci sono decine di imprese agricole soprattutto o qua a Mantova siamo a Mantova citiamo anche il caso di Mantova Ambiente che stanno progettando degli impianti per produrre il biometano nella maniera più virtuosa e più rispettosa dell'ambiente possibile quindi ci stiamo svegliando anche noi è vero velocissime c'è una domanda qualche domanda no comunque siccome non abbiamo più tempo e dobbiamo lasciare anche spazio ai relatori successivi chiedo magari a voi di rendervi disponibili per due chiacchiere se qualcuno avesse appunto qualche domanda personale da porvi ringrazio i relatori ovviamente ringrazio voi che ci avete seguito e ringrazio gli organizzatori del festival ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti